Sono 26 i motivi del ricorso presentato al TAR da parte del Comune di Pineto contro il riordino del nuovo piano organizzativo dell'ASD Teramana, riordino che ha portato alla chiusura dell'unità di terapia intensiva coronarica dell'ospedale San Salvadori di Atri. Noi presenteremo ufficialmente questa mattina il ricorso non solo per la questione dell'UTIC ma anche per altre parti. Per quanto riguarda invece la risposta agli atti ufficiali che io ho chiesto, è arrivato il diniego e su questo anche con l'avvocato questa mattina stiamo vedendo se eventualmente ricorrere anche qui al TAR per avere gli accessi agli atti che non sono solamente da richieste di trasferimento del personale ma anche gli atti aziendali i cui ha portato, sta portando la chiusura dell'UTIC ad Atri. Com'è adesso la situazione? La situazione continua, lo sapete tutto sul giornale che l'orologia intanto si è spostata nella comunità di Giulianova, nell'ospedale Giulianova e comunque questo percorso loro lo stanno mandando avanti. Noi invece ci opponiamo fermamente perché deve essere discusso anche con la cittadinanza. Noi riteniamo che questo reparto è fondamentale per l'area bassa di Atri, Pineto, Silvi e tutta la Valfino. L'iter prevede la discussione dell'istanza cautelare per la sospensione degli atti del direttore generale che dovrebbe esserci entro la fine del mese di aprile. Ovviamente nell'ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accordare questa sospensione ci vedremo probabilmente costretti ad appellare al Consiglio di Stato. Quindi il percorso iniziato noi ci auguriamo che sia breve ma se non dovesse esserlo siamo pronti anche ai passi successivi. Grazie. 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 Grazie.